quello quello è senz'altro perché domani abbiamo una partita una partita complicata complicata perché affrontiamo affrontiamo un avversario che arriva da due da due scoffitte probabilmente non meritate è un avversario forte con con degli ottimi interpreti ed in più insomma io ho avuto la fortuna sono stato allenato da del neri lo conosco so che è un allenatore molto preparato che farà di tutto per mettere in condizioni la propria squadra di fare un'ottima gara ma nello stesso tempo dico che ho visto i giocatori sul pezzo che si sono allenati bene che che sono che sanno che domani abbiamo l'udinese poi da domenica sera dopo l'udinese sappiamo cosa dovremo fare ma l'unico imperativo domani è portare a casa i tre punti perché dobbiamo dare seguito alle ottime prestazioni che stiamo facendo nelle ultime settimane siamo sempre in crescendo secondo me esprimiamo un ottimo calcio ma dobbiamo continuare perché dobbiamo dar seguito alle ultime ottime prestazioni ma quello senz'altro indipendentemente adesso manca ancora l'allenamento di oggi poi domani mattina faremo una cosa un'altra seduta veloce dovrò valutare o qualche giocatore che sicuramente recuperato ma dovrò dovrò valutare perché nelle ultime settimane magari ha avuto qualche problemino non si è potuto allenare al massimo nello stesso tempo so che ho giocatori tipo patrick radu e lulic che che mercoledì non non potranno giocare sicuramente faranno parte della partita molto mi fa piacere però nello stesso tempo sappiamo che quest'anno è un campionato un po un po particolare perché con questo tipo di punteggio dopo 25 partite sicuramente saremo dovuti essere ancora terzi forse quarti invece in questo momento siamo sesti sappiamo che dobbiamo continuare a crescere a cercare di vincere più partite possibili abbiamo abbiamo secondo me abbiamo margini di crescita però dobbiamo continuare però come ti ho detto prima sono sono fiducioso perché ho visto la squadra sul pezzo che ha lavorato molto bene che sa che domani senz'altro non sarà una partita semplice settimana importante però insomma sappiamo che che avremo tre partite non semplici una differente dall'altra però sicuramente sarà sarà una settimana importante perché domani innanzitutto partiamo con l'udinese che una partita non semplice è una squadra esperta con giocatori da tanti anni nel campionato italiano che possono possono essere decisivi nello stesso tempo sappiamo come ho detto prima che ho visto la squadra bene e poi insomma dopo l'udinese avremo avremo una semifinale di coppa che ci siamo meritati sul campo che che l'abbiamo voluta con tutte le nostre forze ma come ho detto prima un passo alla volta testa l'udinese perché abbiamo l'obbligo di centrare i tre punti